e dopo aver assaggiato un aperitivo d'autore qui dal Vinitaly di Verona vi mandiamo un saluto ma ve lo facciamo mandare dal rappresentante di una splendida azienda familiare che si chiama? Negrone Antica Distilleria ci troviamo a Mareno di Piave in provincia di Treviso Lei si chiama? Valentina Valentina, allora descrivici questa bella storia che nasce in che anno? Nasce nel 1919 dal cavalier Guglielmo Negroni nasce in provincia di Parma per poi spostarsi a Treviso negli anni 90 è stata acquisita dagli attuali proprietari che la seguono con passione e producono dei liquori non da poco abbiamo uno specialissimo liquore di camomilla che è un'infusione in soluzione idroalcolica di fiori freschi di camomilla raccolti direttamente dal cadore e abbiamo una bella varietà di proposte per dircela tutta vogliamo guardare un po' ci fa vedere? Sì, certamente abbiamo i nostri cavalli di battaglia che sono le basi per i cocktail Bitter, Sambuco, Old 1919 questa è proprio una ricetta storica creata dal fondatore e per poi passare ad altri caratteristici prodotti come la Maro Negroni che utilizziamo anche in cocktail abbiamo vinto anche una medaglia d'oro nel 2017 al concorso internazionale di Londra ISV per passare a prodotti tipici italiani come il liquore di Liguirizia polvere di Liguirizia che ci facciamo arrivare direttamente dalla Calabria dopo un'attenta selezione E a questo punto non posso che chiederle qual è il liquore che lei personalmente preferisce? Certamente il primo che ho presentato questo, sì liquore di camomilla Negroni antica distilleria E per chi a questo punto è incantato dalle parole perché ahimè le interviste e la TV non può trasmettere il gusto che cosa dovrebbe fare per assaggiare i vostri meravigliosi prodotti? Certamente venire a trovarci le Vinitaly qui siamo al padiglione 4 stand B5 siamo presenti comunque in tutta Italia potete contattarci direttamente abbiamo un sito internet al quale potete rivolgervi anche per acquisti diretti Grazie, grazie Niente, grazie a voi Arrivederci